Torre del Greco è il primo comune con più di 50.000 abitanti ad essere pronto per i PUC. Queste le parole dell'assessore alle politiche sociali Luisa Refuto, che questa mattina nel corso della conferenza stampa tenutasi a Palazzo Baronale, alle telecamere di TV City spiega cosa sono i PUC e chiarisce che ad essere impegnati in questi progetti utili alla collettività saranno i percettori del reddito di cittadinanza. Nelle prossime settimane, infatti, verranno chiamati a prestare il loro contributo presso alcuni settori di pubblica utilità. Sono progetti utili alla collettività che serviranno per portare a termine il processo del reddito di cittadinanza. Difatti, i destinatari dei PUC sono proprio i percettori del reddito. E in che cosa consistono nello specifico? Considerando che gli ambiti di intervento dei PUC sono ambito culturale, artistico, ambientale, sociale, tutela del patrimonio, sono questi gli ambiti nei quali i percettori del reddito dovranno svolgere questi patti. I percettori del reddito sono tenuti a svolgere questi patti. Di fatti, la mancata partecipazione ai PUC comporta anche la decadenza dal beneficio. Quindi sono patti predisposti proprio al fine di legittimare la percezione del reddito. Collaboreranno con l'ente comunale o con gli altri enti pubblici che hanno la possibilità di diventare partner del comune, ma in ogni caso non danno luogo a nessun tipo di ipotesi, tipologia di lavoro autonomo o subordinato. Restano comunque dei patti ai quali il percettore è tenuto. Quindi non creano nessun tipo di diritto ulteriore. Tra i comuni del Napoletano sappiamo che è partito Bacoli, Mercato Sansevirino, ma tra i comuni del Napoletano, sicuramente Torre del Greco, è il primo comune con più di 50.000 abitanti che oggi è pronto con i PUC. L'amministrazione partirà con dei PUC comunali nei giorni a seguire che verranno approvati in giunta comunale, proprio nell'ambito di alcuni settori previsti dai PUC stessi. Per quanto riguarda invece i PUC dell'ambito sociale, oggi è stato pubblicato sull'albo pretorio un avviso pubblico proprio per incentivare gli enti pubblici del territorio e gli enti del terzo settore a collaborare per la realizzazione dei PUC stessi. Quindi la conferenza stampa di oggi ha anche questo obiettivo, perché comunque sono numeri importanti, perché comunque è un progetto da portare a termine. Chiediamo anche la collaborazione degli altri enti sul territorio di collaborare per la realizzazione dei PUC stessi. Alla conferenza hanno preso parte anche il sindaco, dittore del Greco Giovanni Palomba, il dirigente alle politiche sociali Andrea Formisano, i consiglieri comunali lista il cittadino Luigi Caldarola e Pasquale Brancaccio. Noi ci rifacciamo a quella che è la legge dello Stato e nello stesso tempo con la mancanza di quella che praticamente tutti gli enti e tutti i comuni hanno di mancanza di personale, usufruiremo di questo personale secondo i temi di legge, gli orari e tutto, affinché alcuni nostri servizi, in particolar modo la custodia, che è quello che in questo momento noi abbiamo più difficoltà, possa praticamente avere, che vi devo dire, l'apertura delle ville comunali, del cimitero, dei palazzi, quindi possiamo avere custodi o altre realtà, sono vari progetti che nei vari settori sono stati fatti e io spero in tempi brevissimi di avere queste persone a lavorare nel Comune di Torre del Greco, secondo sempre quelli che riguarda il reddito cittadinanza, quindi non diventano lavoratori del Comune di Torre del Greco, ma devono servire per quello che loro prendono come reddito cittadinanza. Grazie